Sono due le offerte arrivata al comune di Arezzo per la nuova sede della Polizia Municipale. Una riguarda proprio l'ex asilo di via Fabio Filzi che aveva già suscitato perplessità e dubbi sulla sua scarsa idoneità ad ospitare il comando dei vigili. L'altra offerta è arrivata a sorpresa la commissione incaricata dal comune di Arezzo. Riguarda infatti un immobile di Campo di Marte di proprietà di Fagliero Papini con vista sulla stazione proprio in quel luogo di nessuno teatro continuo dispaccio ormai da troppo tempo. Si tratta di un immobile di oltre 2000 metri quadrati. L'altra busta come detto riguarda l'ex asilo di via Fabio Filzi di proprietà della diocesi di Arezzo. Ora sarà la commissione incaricata ad effettuare una valutazione tecnica che orienterà la decisione filale del comune per capire se le offerte presentate siano congrue. Non si conoscono al momento gli importi delle offerte presentate. L'opposizione in consiglio comunale aveva parlato di uno stanziamento a bilancio di quasi 3 milioni di euro tra acquisto e ristrutturazione dell'immobile individuato chiedendo al comune di rivedere la propria scelta e di risparmiare la somma utilizzando per il comando dei vicili un immobile di proprietà come quello di viatagliamento.